Grazie, finalmente il mio primo giorno libero, dopo tanto tempo. Oggi vado a riposare, anche una bella giornata. Grazie mille per i commenti e gli in bocca al lupo, veramente grazie. Per quanto riguarda il video di oggi, a me piace molto, come sapete, parlare di calcio giocato. Quindi è inevitabile che io abbia fatto in questi anni con voi dei video, no? Che riguardavano soprattutto gli allenatori. Poi all'infoio dell'Inter ho parlato poco di calcio perché preferisco parlare della nostra Inter. Anche perché poi, così, la passione è quella. Però quando ho fatto dei video in negativo, li ho fatti con De Burbe, prenderlo per il culo. E su Sarri, per il caratteraccio, le scuse, il piangina. Però quando ho fatto dei video in positivo, li ho fatti, ne ho fatti due sostanzialmente. Uno su Montella, insieme a Simone, che saluto, l'IFODA, fisioterapista e preparatore di altissimo livello, insegnante di TIC di Cagliari, che saluto. E era l'epoca in cui Montella veniva contestato al microdo, si era appena nato dal Milan e era ancora al Milan. Comunque, ragazzi, dopo 60 anni, il Siviglia è ai quarti della Coppa dei Campioni. I quarti vuol dire che nelle otto squadre. Vuol dire che se dovesse passare i quarti sarebbe il semifinale. Un risultato pazzesco. Comunque vuol dire che se nelle prime otto si è lasciato alle spalle, non lo so, 25 squadre. Ed è un risultato incredibile. Soprattutto perché l'avversario è di uno spessore enorme. Cioè il Manchester United è la seconda forse squadra inglese, secondo le classifiche ufficiali dei trofei dopo il Liverpool. Credo comunque è considerata, insomma, la squadra. E Montella ha preso 0 gol da Mourinho. E ieri ho visto dei pezzi, poi ho visto benissimo gli highlight. Ho visto comunque una partita un po' così, un po' loffia. Però poi Montella ha azzeccato le sostituzioni, ha infilato comunque con un gioco spumeggiante che lui sa fare. Io non ho mai avuto un'esaltazione per il Montella allenatore, più che altro per il Montella preparatore. Certo è che tutti quelli che hanno messo o hanno messo dislike o hanno addirittura così, insultato, ho scritto il tuo Montella, Montella, Montella. Montella è in finale di Coppa del Re, ha eliminato l'Atletico. Ora si gioca la finale ed è ai quarti dopo 60 anni di Coppa dei Campioni. Al Milan non ha fatto così bene, evidentemente ci voleva tempo. Sicuramente Gattuso sta facendo molto bene, a parte l'inizio, ma Gattuso sta facendo benissimo, soprattutto nelle due partite a Roma, insomma, ha raggiunto una finale. Però, insomma, poi ha vissuto anche di 0-0, soprattutto in Coppa Italia. Se notate, ha fatto, mi pare, tre volte 0-0. Insomma, certo è che Spalletti non sta facendo male. Un altro video che avevo fatto, in cui dicevo che il migliore, e lo dissi tanto tempo fa, c'è il video dove io dissi io voglio Di Francesco, perché Di Francesco è la sintesi perfetta tra il mio idolo Zeman e un po' di cervello in più. Ma non cervello, Zeman di cervello ne ha. Ma parlavo di sale in zucca, soprattutto nella fase difensiva. Io credo che se Di Francesco riuscirà a recuperare e inserire bene Schick, anche se secondo me lui lo considera il sostituto di Gieco. In realtà, secondo me, non è così. Resta il fatto che questa Roma, dopo dieci anni e quarti di Coppa dei Campioni, ha una difesa forte, stanno facendo gruppo di Francesco Conosce l'Ambiente e anche lì vi avevo fatto un grande video. Infatti ero rimasto stupito poi dalla nostra vittoria a Roma, anche se l'avevo preventivata, ma comunque è innegabile che la Roma, con quei tre pali e quel gioco sfumeggiante, avesse o meritasse almeno il pareggio. Poi, nell'ultimo gol, si è fatta infilare D'Avesino in un contropiede a cinque passaggi, quindi non è che i romanisti possano parlare. Però io credo che Di Francesco stia dimostrando tantissimo quest'anno. È il suo primo anno. Pensate alle difficoltà dello stesso Spalletti, di Montella, del Milan. Voglio dire, la Roma ha fatto un gironi di Champions il più difficile che c'era. Con l'Atletico, il Chelsea, l'ha passato da prima. Poi ha incontrato, vabbè, lo Shakhtar, che comunque arriva sempre, 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 che sia Coppa Campioni o Coppa UEFA, come la chiamo io, arriva sempre nelle prime posizioni, è riuscito a passare e ora è ai quarti. Secondo me sono entrambi, Montella e Di Francesco, due grandissimi allenatori. E io ho cercato di raccontarlo in alcuni video, parlando di Montella, più di aspetti anche legati alle preparazioni. Mentre su Di Francesco, solamente questioni tattiche, per me è perfetto. Cioè, per me Di Francesco, ma io dal Sassuolo che lo seguo, per me lui è la natura del futuro. È ancora un po' impaurito, timoroso, un ambiente, però devo dire che anche lì ha sbroccato all'inizio, poi è stato tranquillo, Roma è un ambiente difficile, però secondo me è veramente forte. Questo per dirvi che così, insomma. Poi alla fine io il faccione lo metto sempre prima e poi qualcosa in effetti va come, non dico come avevo previsto, ma insomma non dico che ho ragione, però insomma questi risultati, ragazzi, 60 anni dopo essere riusciti ad andare nei quarti, la Roma che dieci anni che non ci andava, in più il Siviglia in finale, la Roma terza con un calendario abbastanza favorevole, insomma, in bocca al lupo ai tifosi di queste squadre, noi torneremo a parlare di Inter al più presto, sperando veramente che Genova non sia, come sempre, una trasferta da piangere. Visto che a Genova mi pare che ci abbia lasciato le penne di Burr, mi pare che anche Mourinho avesse avuto parecchi problemi, insomma, speriamo veramente di... insomma, adesso il Crotone ha stirato la Samp di Giampaolo, vediamo un po' cosa accade. La Sampdoria è una squadra un po' matta, può vincere e perdere, secondo me, con tutti. Speriamo in bene. Oggi è solamente mercoledì, quindi pensiamo... stasera ancora coppe, tra l'altro, con delle parite bellissime. Beate voi se le vedete, io non credo di riuscire a vederle. Grazie ancora per i complimenti, vi voglio un sacco di bene, buona giornata e mi raccomando, Forza Inter!